La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e buon giovedì a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento mattutino con la rassegna stampa di Uno News. Vediamo le principali notizie per i quotidiani, ne dico la questa mattina. Andiamo sul mattino nazionale, si continua a parlare della guerra in Ucraina, prove di pace per quanto riguarda il conflitto, anche se intanto arrivano dagli USA nuovi armamenti per l'Ucraina. Vediamo infatti il titolo proprio su questo argomento, Biden arma ancora l'Ucraina, così apre il mattino. Zelensky ieri ha partecipato al congresso USA come l'11 settembre, quindi ha paragonato la guerra in Ucraina all'11 settembre per l'America. La Casa Bianca, Putin, criminale di guerra, le diplomazie al lavoro, spunto una bozza di intesa di 15 punti, paese neutrale e ritiro dei russi. Questi alcuni dei punti nella bozza di intesa e nella bozza di pace tra Russia e Ucraina. Intanto ieri a Mariupol nuovi missili raggiungono il teatro dove si stavano rifugiando dei civili. Vediamo missili sui rifugi, così titola il mattino, bombardato il teatro di Mariupol, Kiev, dentro erano nascosti mille civili. Le grandi manovre a centropagina, est Europa, Nato e Stati Uniti già schierano 145 mila soldati. E ancora il paese distrutto dai nazisti accoglie i bambini ucraini da San Pietro infine al confine polacco. Andiamo di fondo l'analisi, se la cronaca rincontra la storia senza accorgersene chissà quanti ucraini che in questi giorni ci sono permessi il lusso di mantenere nelle loro case, le loro grandi, modeste o minuscole biblioteche, saranno andati nei giorni scorsi a frugarvi più o meno febbrilmente per ripescarvi una delle piccole gemme della loro identità profonda. E poi gli altri fronti, la partita a scacchi è già su scala globale. Spostiamoci invece di spalla l'intervista a Bonomi senza interventi su gas e benzina, andiamo in recessione, le acciaierie si stanno fermando, serve un tetto ai prezzi dell'energia. E poi l'intervista a Zubov saranno le elite del Cremlino a rovesciare Putin come Khrushchev, lo storico dissidente, conflitto più lungo del previsto, Vladimir andrà presto in crisi. Questa l'ipotesi. Andiamo in basso. Salerno, tremano gli albergatori, perderemo russi e americani, già le prime disdette e allarme per il turismo. Chiudiamo la prima pagina del mattino nazionale, vediamo invece i principali titoli per il mattino di Salerno e parliamo proprio dei rischi per il settore turistico. Nel salernitano vediamo l'economia e l'allarme, turismi, via russi e americani, gli albergatori già le prime disdette, stagione a rischio, l'assessore una rete contro la crisi. L'allarme summit a Palazzo Guerra, gli imprenditori, luci d'artista, è un brand ma va rimodulato. Ancora le altre notizie, l'ambiente gestione rifiuti all'ente, passa la lista unica, coscia, verso il bis alla presidenza. Ha trionfato l'unica lista candidata nel consiglio dell'ente d'ambito dei rifiuti, insieme ambiente guidata dall'uscente Giovanni Coscia, continuerà a governare. E tra gli eletti anche il consigliere comunale di Sala Consilina, Vincenzo Garofalo, oltre a Francesco Perretta di Salvitelle. Andiamo ora, siamo in alto, la memoria sfregiata, addio museo dello sbarco, poche visite e zero aiuti. Le notizie invece riportate di fondo, appalti comunali a Salerno pulita, Celano, Sperpero di fondi pubblici. C'è poi la protesta e il sito in arruggi dei precari Covid, 400 sanitari da stabilizzare. A centro pagina, la guerra e la solidarietà, salvate i miei cari, Salerno raccoglie l'SOS del marinaio, moglie, sorelle incinte e figli dell'Ucraino, accolti da autori grazie a Stella Maris. E ancora l'evento e la guerra, l'occhio di Iori al liceo artistico, cultura e dialogo per riavere la pace. Nella fotonotizia invece si parla di calcio, febbre per la gara della Salernitana contro la Juventus. Vediamo, Perotti chiede una maglia da titolare, Blitz di Sabatini, il DS chiama la squadra a rapporto in vista della sfida contro i bianconeri. Nelle fotonotizie invece in basso, la violenza Scafati, martellate alla sorella, lui confessa, lei è grave. E poi l'inchiesta nel Vallo di Diano, l'oro nero delle mafie, in 54, vanno a processo. Questi principali titoli per il mattino di Salerno, vediamo invece le cronache, come apre oggi sulla prima pagina. In apertura l'inaugurazione del murales di Iori, annunciazione, annunciazione di Luca Sudigiri. Entro l'estate ci sarà l'avvio dei lavori per il nuovo Ruggi e il palazzetto dello sport, attenti al Covid. E poi, sempre in alto il fatto, ce l'hanno affidamenti a Salerno Pulita con costi eccessivi, presentato e esposto alla Corte dei Conti. Per i titoli sotto l'attestata, vediamo i dati in aumento, il direttore Tuorto, nel salernitano il 12% delle famiglie al limite della povertà. E poi apertura a parchi di Salerno, affidamento alla Selpol, fu denunciata a Pagani per la gestione Covid. Spostiamoci su questa prima pagina di Le Cronache, andiamo a centropagina, parliamo ancora del Museo dello Sbarco, Regione Comune Contro chiude il Museo dello Sbarco, decreto bloccato da 5 anni da De Luca, non abbiamo fondi per la gestione, la delusione di oddati pronto a trasferirsi a Pestum. A Salerno Ilardi rilancia l'ostello da designare ai profughi e poi capitale della cultura Franceschini, premia il compagno Ricci, Cilento, beffato da Pesaro e dal PD. La protesta, 400 precari della sanità a rischio, i sindacati chiedono la stabilizzazione. Andiamo di fondo, caos all'asli, il pediatra va in pensione, bimbi restano senza medico. E poi Villa dei Fiori, i lavoratori appoggiano la denuncia del consigliere Stile. Questi principali titoli sulle prime pagine dei nostri quotidiani, torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo appena visto, partendo dalla guerra in Ucraina, vediamo come si evolve la situazione. Ieri è ancora un dramma, è stato vissuto a Mariupol, vediamo infatti il titolo, bombe sul teatro, era un rifugio per i civili. Arriva anche la versione di Moskrat, al proposito non siamo stati noi, ma gli ucraini del battaglione Azov. Kiev all'interno, mille persone, colpito un centro sportivo con donne incinte. E poi vicino ad Odessa, missili lanciati dalle navi e un messaggio, non vogliono che arrivino gli aiuti. Ancora a nord della capitale, dieci uccisi, mentre erano in fila per il pane, i russi smentiscono anche questa strage. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, parliamo ora invece dell'incontro che si è tenuto ieri al congresso degli USA, dove ha partecipato anche il premier dell'Ucraina, Zelensky. Vediamo in collegamento, prime prove di pace, ma Biden avverte Putin, aiuti militari a Kiev, spunta una bozza di intesa in 15 punti, Ucraina neutrale, russi via, Zelensky parla al congresso USA, viviamo l'11 settembre ogni giorno. Il ministro turco incontra Mosk, Lavrov e Zelensky, chiama Erdogan a impostare un dialogo pacifico. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, sempre per quanto riguarda invece la guerra, vediamo come si sta muovendo gli Stati Uniti e la Nato, vediamo le strategie militari, est Europa e Baltico, già 145 mila uomini nel fortino USA e Nato, ingente mobilitazione per dare segnali a Mosca, unità navali aeree per presidiare i mari del nord. In Polonia, Romania e Bulgaria, le truppe in allerta nelle basi, intensificate le esercitazioni, più defilate Ungheria e Slovacchia, che non partecipano alla logistica per l'invio di armi ed equipaggi a Kiev. Intensa attività di forze statunitensi anche in Germania e Gran Bretagna, arrivati 4 B-52, 6 caccia F-35. Andiamo in basso, l'intervista, paure inutili sulla circolare dell'esercito, non siamo in guerra, ma restiamo pronti, i militari troppo spesso impegnati in compiti di polizia sulle strade, ora lo Stato Maggiore vuole insistere sull'addestramento, il documento non decretato perché non pericoloso, uomini e mezzi sono da svecchiare bene l'aumento di risorse, e questo per quanto riguarda la situazione in Italia dal punto di vista militare. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, parliamo di un altro tema che sta interessando tutta l'Italia, con il caro energia, soprattutto il caro carburanti, vediamo quali sono le misure che il governo punta ad adottare, vediamo benzina, freno ai rialzi con la Cisemobile, slitta domani il Consiglio dei Ministri, difficoltà su extra profitti e tetti per i costi, Mister Prezzi avrà una struttura ad hoc per contrastare le manovre speculative, esecutivo al lavoro anche sul Golden Power, potrebbe essere resa stabile la versione rafforzata. E vediamo il meccanismo dell'accesa mobile, introdotto con la legge finanziaria del 2007, ma non utilizzato in tempi recenti, scatta quando l'aumento del prezzo dei carburanti fa gonfiare il gettito dell'IVA ed ad essi applicato. Dal punto di vista dello Stato sono maggiori entrate fiscali che vengono destinate a tagliare temporaneamente le accisi, ovvero l'altra componente fiscale che grava sul prezzo. In questo modo il costo per il consumatore si riduce mentre lo Stato compensa le sue entrate. Quindi questa è l'ipotesi di adottare l'accise mobile. Andiamo in basso, l'incaria all'ombra della guerra, sui carburanti c'è la prova che gli aumenti sono eccessivi. In genere occorrono tre settimane perché il prezzo del Brent si trasferisca al distributore. Gas intesa Italia-Germania, cingolani, ma a questi prezzi gli stoccaggi sono insostenibili. Vediamo, è un reato da codice penale, articolo 501 bis. L'aumento ingiustificato dei prezzi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 516 a 25.822 euro. Ma i rincari della benzina sono davvero esagerati e sono la diretta conseguenza degli effetti inevitabili dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per capirlo bisogna osservare senza pregiudizi quanto è accaduto sul mercato del petrolio e su quello dal distributore dei carburanti negli ultimi sei mesi. Un periodo che ha visto forti oscillazioni con la principale fase di ribassi durata da fine ottobre a tutto novembre e con rialzi rilevati nei mesi di dicembre e gennaio prima cioè che la guerra divampasse. Ebbene, sia nella fase di contrazione dei prezzi sia in quella di rialzi ci sono volute tre settimane perché il prezzo del Brent facesse sentire i suoi effetti alla pompa. E chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti parliamo ora invece di Covid ci si avvia verso la fine dello stato di emergenza per la situazione pandemica vediamo quali sono le mosse del governo per allentare le strette fin qui adottate per il contenimento del contagio vediamo al lavoro senza pass ma nei luoghi chiusi resta la mascherina questa al vaglio del governo oggi il decreto del governo si tratta ancora su una proroga del lascia passare rafforzato ma senza sanzioni per chi non ce l'ha e poi ancora Draghi vuole aprire tutto e subito regioni in pressing prima di Pasqua via ad ogni tipo di restrizione vediamo quali sono i punti l'occupazione per entrare in ufficio basterà un test negativo le categorie forze dell'ordine prof e medici obbligo di vaccini ancora i campionati stadi e palasport la capienza aumenta ancora e poi i dispositivi le protezioni all'aperto si toglieranno i trasporti certificato base per salire su bus e treni e poi la didattica scuola anche con il contatto con un positivo con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo le scuole resteranno sempre aperte per tutti saranno infatti eliminate le quarantene da contatto ha annunciato Draghi qualche settimana fa significa che da aprile tutti gli studenti potranno andare a scuola anche se sono stati a contatto con persone risultate positive al virus a condizione di essere asintomatici e con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa vediamo quali sono le principali notizie che toccano il salernitano andiamo sulle pagine di primo piano del mattino di Salerno la questione turismo l'abbiamo già visto anche dalla prima pagina l'economia ora insomma si apre la stagione turistica con ripercussioni anche a seguito della guerra vediamo infatti il titolo per queste pagine di primo piano l'allarme SOS turismo perderemo ospiti russi ed americani gli albergatori con l'assessore Ferrara già le prime disdette a causa del conflitto Gagliano oltreoceano nutrono timore per l'emergenza sicurezza in tutta Europa il titolare delle attività produttive possibile diminuzio per prezzi ed energie studiamo insieme le contromisure poi gli imprenditori dell'encoming lucida artista è un brand da salvare ma va rimodulato e con più anticipo vediamo in alto partiamo vediamo una parte dell'articolo i nodi da sciogliere sono sul tavolo si punta alla crescita del settore alberghiero al rilancio del turismo a Salerno dopo la pandemia incontro ieri a Palazzo di Città è una delle delegazioni tra l'assessore alle attività produttive e turismo e una delegazione di albergatori nelle città nel frattempo l'attenzione si è concentrata anche sulle ripercussioni sul turismo del conflitto ucraino andiamo a centropagina fonderie pisano audizione alla regione salute e vita replica agli operai chiudiamo questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sul mattino di Salerno andiamo ora sulla questione appalti vediamo appalti a Salerno pulita soldi sperperati celano di forze tali servizi di pulizia affidati alla partecipata senza una ricerca di mercato e manda gli atti alla Corte dei Conti la Coppa di Ete va al Tar per far annullare la delibera consigliare lavora per tanti altri enti qui spendiamo il 25% in più restiamo in tema ambiente si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ente d'ambito rifiuti vediamo passa la lista unica Coscia prenota il bis al vertice consiglio d'ambito vince la politica del conferimento a costi ridotti ma i piccoli centri disertano le urne alla fine come da pronostico ha trionfato l'unica lista candidata a guidare il consiglio d'ambito dei rifiuti di Salerno insieme ambiente la lista guidata dal presidente uscente Giovanni Coscia ha infatti ottenuto i voti per poter continuare a governare per i prossimi quattro anni le politiche inerenti i rifiuti solidi urbani dei comuni afferenti all'ente d'ambito di Salerno ieri mattina dalle ore 8 il seggio di via sabatovisco a Salerno ha regolarmente aperto come da programma tutti i candidati comunque sia alla fine sono risultati eletti sono 22 i componenti del consiglio ente d'ambito andiamo in basso precari sit-in al Ruggi per i contratti in scadenza i sindacati in 400 da stabilizzare avviata una prima ricognizione sono 1415 i contagi registrati ieri chiudiamo questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sul mattino di Salerno e andiamo ora invece sulle pagine della provincia di Salerno per la Piana del Sele per il Cilento Picentini e Vallo di Diano in apertura si torna a parlare degli arresti della maxi operazione condotta dai carabinieri della compagnia anche della compagnia di Sala Consilina dalla procura sul mandato della procura di Lecce vediamo che parte il processo per gli arrestati nell'ambito dell'operazione febbre dell'oro nero vediamo maxiprocesso oro nero in 54 rinviati a giudizio mafia e camorra nel Vallo di Diano infiltrazioni della mala tarantina e dei casalesi di Diana tra i reati associazioni a delinquere frode e riciclaggio sono 54 le persone rinviate a giudizio dal Tribunale di Potenza indagate e ora imputate nel processo febbre dell'oro nero la decisione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Lucano è arrivata nell'aula bunker il 16 giugno è stata fissata dal Tribunale presso il Tribunale di Lago Negro la prima udienza del procedimento penale scaturito dall'inchiesta che ha evidenziato secondo quanto è fatto emergere dalle forze dell'ordine infiltrazioni camorristiche della mafia tarantina nel Vallo di Diano andiamo a battipaglia la baby gang che tortura i gatti randaggi i gatti uccisi da baby gang a battipaglia un gruppo di ragazzi minorenni insegue qua i gatti poi li chiude nelle scatole di cartone e li abbandona per strada per farli investire dalle auto andiamo a eboli self-service in tilt fanno il pieno senza pagare mentre in basso battipaglia banca bosco 500 alberi nelle aree industriali legambiente punta a ridurre le emissioni di CO2 a sapri colpo da 60.000 euro ladri con le ore contate potrebbero avere le ore contate i malviventi che lo scorso weekend hanno messo a segno il colpo criminale a danno di annuzzi moda rinomato negozio di abbigliamento e calzature sportive secondo indiscrezioni i ladri avrebbero portato via circa 60.000 euro di merce a disposizione degli inquirenti ci sarebbero le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in diversi punti della zona in cui insiste l'attività commerciale andiamo ora di spalla vediamo a Castellabate SOS Piscina scontro in consiglio comunale mentre a Cuccaro Vetere restyling galleria San Vito strada chiusa per 5 notti queste alcune delle notizie pubblicate sul quotidiano il mattino andiamo ora invece sul quotidiano le cronache del Salernitano e troviamo in primo piano le elezioni per il rinnovo del consiglio d'ente d'ambito dei rifiuti dura in carica 4 anni 22 gli eletti quindi tutti i candidati della lista proposta da Giovanni Coscia che si candida così al BIS per quanto riguarda la presidenza dell'ente d'ambito e vediamo eletto il consiglio il comune di Salerno elegge l'ex consigliere Domenico Mazzeo poco prima della scadenza del mandato aveva lasciato la maggioranza poi il passo indietro e la fedeltà per il capoluogo di provincia ci sono invece il presidente uscente Giovanni Coscia e Pasquale Sorrentino vediamo quali sono gli altri eletti tra cui anche nella fascia B del perché erano tre le fasce fascia A fascia B e fascia C in base alla popolazione dei diversi centri nella fascia B per Sala Consilina anche il consigliere comunale Vincenzo Garofalo designato proprio dal sindaco di Sala Consilina inoltre è stato eletto nel consiglio d'ente d'ambito anche Francesco Perretta consigliere comunale di Salvitelle designato dal sindaco del comune di Castellabate andiamo avanti Consorzio Asi di Spalla no a nomina del DG attraverso la chiamata è ancora in basso la curiosità Planet Smart City aumentano i progetti di riqualificazione urbana Salerno è stata incaricata di predisporre un piano per rendere smart la città e chiudiamo questa pagina andiamo avanti caro carburanti un tema che sta provocando pochi problemi anche alla categoria degli ambulanti proprio per la necessità per loro di spostarsi con i mezzi per poter raggiungere le aree mercatali l'allarme è stato lanciato da Finalip vediamo caro carburanti a rischio fallimenti gli ambulanti questo è il titolo Finalip ambulanti il conflitto inaccettabile a cui stiamo assistendo fa paura per le conseguenze relative agli aumenti delle materie prime parla Sebastiano Cocco molti colleghi non hanno più la possibilità di recarsi alle aree mercatali per i costi alti della benzina senza contare le richieste dei comuni per il pagamento delle tasse senza dilazione e chiudiamo questa pagina andiamo avanti parliamo ora di sport parliamo di Salernitana che si sta preparando alla sfida contro la Juventus vediamo Salernitana Mamadou scalda i motori il centrocampista complice l'assenza di Ederson con la Juve potrebbe tornare titolare dopo un calvario di cinque mesi dopo la panchina con il Sassuolo Coulibaly si candida per una maglia accanto al suo omonimo la Sana l'ultima volta fu alla Spezia ad ottobre per il Senegalese il caso in caso di salvezza scatterebbe riscatto automatico a fine stagione da parte del club Granata e poi parliamo invece delle date di recupero delle partite che erano state annulate per il Covid per la positività di diversi giocatori della Salernitana vediamo che l'Udinese presenta un nuovo ricorso per far slittare la data per giocare la gara vediamo l'Udinese pensa al ricorso per far slittare il recupero l'Udinese vuole scegliere la data del recupero per il match contro la Salernitana la società Friulana potrebbe decidere di ricorrere al Coni non tanto per evitare di giocare ma soprattutto per far slittare l'impegno ed evitare la data del 6 aprile che se confermata costringerebbe la formazione bianconera a disputare il recupero con il Granata tra la sfida interna con il Cagliari e la trasferta di Venezia andiamo in basso dal campo dopo Ederson si ferma anche Michel Boniem in corsa per una maglia contro la Juve Nicola pensa a qualche cambio e poi consiglio federale Ghirelli nuovo vicepresidente Calcagno il vicario soddisfatto il presidente messaggio chiaro dal calcio e con queste notizie dedicate al calcio termina la nostra segna stampa io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro TG alle ore 13.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito